Eccomi tifosi rosso-blu, eccomi appassionati della serie C, qui Lollo, benvenuti o bentornati sul nostro canale Paul e Lollo. Siamo nel post partita di Juve Stabia Potenza terminata 2-0 a favore di Giallo-Blu, un Potenza che incassa la sua terza sconfitta consecutiva, la sesta della gestione Capuano. Andando ad analizzare proprio la gestione Capuano possiamo dire che abbiamo sei sconfitte, una vittoria e un pareggio. Un Potenza quindi fermo a 10 punti e penultimo in classifica. Andiamo ad analizzare la gara con i primi 15 minuti che sono di studio da parte di entrambe le squadre. Di lì in poi abbiamo un buon Potenza che riesce a occupare la metà campo avversaria, in particolare l'azione che porta al tiro di Zampa è da ricordare con un'ottima risposta da parte di Tomei. Poi il Potenza però ha anche uno schema da punizione ravvicinata che per poco non porta al vantaggio, peccato, per Coppola. La Juve Stabia però riesce a passare in vantaggio con la rete di Orlando, quindi primo tempo che si chiude con il vantaggio Campano. Un secondo tempo che si apre alla stessa maniera di come si era aperto il primo, quindi con una fase di studio, con un Potenza che prova a reagire ma perde la sua pedina più importante di questo momento, cioè Cianci. Che esce per infortunio ed entrerà a Volpe, quindi il Potenza cambierà anche il suo assetto di gioco e riuscirà a trovare un'unica azione importante nel secondo tempo, sempre con Zampa, sempre un tiro da fuori aria che va poco fuori la porta occupata da Tomei. E da qui, come è successo nel primo tempo, la Juve Stabia poi troverà il vantaggio per due reti a zero con la rete di Bubas. Qui un errore difensivo, prima di Coccia poi di Boldor, portano alla conclusione di Bubas che infila la rete del 2-0. Da qui nessuna emozione. E che dire, non ci siamo riscattati neanche con la Juve Stabia. Speriamo di farlo nella prossima. Vi ricordo in descrizione i nostri social Facebook, Instagram e Telegram dove aggiorniamo la partita, appunto l'evoluzione della partita del Potenza, di tutte le partite. E c'è anche il canale di Potenza Futuro Club, se volete passateci. Speriamo di riscattarci e sempre Forza Potenza.